Sul corpo di Fedez c'è un nuovo tatuaggio, stavolta il soggetto e sua figlia Vittoria. Ma l'ultima opera del suo tatuatore sulla coscia sinistra di Federico Lucia non sembra aver incrociato i favori dei fan del rapper, che anzi sul suo profilo Instagram gliene hanno dette di tutti i colori. Tra i commenti più gentili ci sono le risate dei più, compresa la moglie Chiara Ferragni che non ha potuto trattenere un emblematico ha 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 ha. Ma c'è anche chi consiglia a Fedez di farsi rimborsare quel tatuaggio. Perdona la franchezza, scrive una fan, io, fossi in te, denuncerei il tatuatore. Tua figlia è di gran lunga molto più graziosa, non le ha reso giustizia, scusa se sono sincera. Altri gli dicono proprio che l'unica soluzione sarebbe denunciare il tatuatore e c'è poi chi si lancia in una profezia provocatoria dopo lo strappo tra Fedez e Louis Hall. Litigherà anche con la figlia dopo questo tatuaggio. Fedez da parte sua pare avesse tutte le buone intenzioni del mondo prima di farsi fare quel nuovo tatuaggio. Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia e poi tatuatevelo. Non tutti però hanno interpretato quello sguardo come ha fatto il rapper. Sembra triste, qualcuno dice. Altri azzardano, Vittoria è una bambina stupenda ma ti hanno tatuato il bambino sbagliato. È a sbulla. La previsione di un fan è che è arrivata la maggiorità, Vittoria chiami un avvocato. È fatto bene, però se appena può, Vittoria ti querela, ha ragione lei. Vittoria 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 Vittoria